Benvenuti in questo nuovo video, ci siamo, siamo in live, siamo in diretta Oggi siamo qua io e Desi a fare enduro, dobbiamo andare in cima a quella montagna, non so se ci arriveremo No dai ci arriveremo, siamo fiduciosi, abbiamo preparato le moto, Usaberga enduro, TM enduro E ragazzi seguite anche lei su Instagram e ora partiamo Lascio il link del suo profilo e anche del mio giustamente in descrizione Allora quello che faremo sarà seguire la strada più semplice così lei riuscirà a farmi dietro il giusto senza che si faccia male Gioco che è ghiacciato non è il massimo Ok, ora dobbiamo iniziare ad andare su di là Iniziamo ad andare su di là, dai stammi davanti, stammi davanti Segui quello che faccio Ho perso Desi? Spero non si sia fermata, comunque è abbastanza semplice E' un po' ripido sì, quello l'ho ammetto Però è abbastanza semplice Ecco, facciamo andare davanti Da quel che vedo la sta tenendo in seconda tranquillamente andando su Però è brava, se la cava Invece sto facendo tipo un esercizio d'equilibrio A stare su Su questa parete Vai vai Brava Ragazzi andiamo su in un attimo Proprio in un attimo Ditemi se vi piacerebbe una serie assieme a lei In enduro O comunque quest'estate Siamo intenzionati a farle montare il motard E faremo anche dei sumo vlog assieme Oppure Non direttamente una serie Ma comunque Quando usciamo assieme faremo dei video Ditemi quale opzione preferite delle due Sinistra Sinistra E' alto? Ragazzi è un po' bassa Poverina Fosse un po' più alta Sarebbe già molto più semplice per lei L'abbiamo già persa Oppure non era partita Vabbè ragazzi Andiamo piano Perché se no Saremmo già arrivati in cima No scherzo dai Oppure no Nooo E' caduta E' tenuta troppo stretta A curo Più che altro Un botto ripida E' un botto E' un botto ripida Vediamo se è successo qualcosa C'erano delle bozzatine sulla marmitta Sì Sì vai tra E' successo nulla Come no Accendiamo in prima E poi La portiamo su E' un po' alto E' un po' alto eh Nooo Allora Tieni il freno te Facciamo una cosa Forse ora la accendiamo Mettila in prima E fai le tue cose Non troppo gas No 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 Riesci a salire sulla moto? No ma certo Ops Qui abbiamo un problema tecnico Di fondo E' da andare indietro E' da rifarla tutta Ma non stiamo spingendo Torniamo all'Useberg Bravo ha scelto la via giusta Anche lei sta abbastanza in equilibrio Sulla cava Magari è un po' rigida Si vede nella guida Devi smollirti un po' Devi usare un po' Le braccia e le gambe Per domare la moto Stiamo sul lato destro Che non c'è tanto ghiaccio E poi lì Al posto di fermarci In mezzo alla curva Come hai fatto prima Passa la dritta C'è arriva dritta E' stra easy Attiva Dai più gosso Più gosso Più gosso Più gosso Più gosso Vai vai ce la fai ce la fai Brava 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 Svegliamo la moto Dai ci siamo quasi Come ti senti ora Come ti senti ora Stremata E' rischioso essere una tesi Ragazzi stiamo arrivando in cima Guardate che figata a fianco me Non so se si capisce Ma è abbastanza ripico Ciao Facciamoci sparare la terra In faccia da tesi Ora destra Qua qua Dai Desi è facile E' rimasta lì E' bello pendente qua Non posso ne scenderle e salire Sta arrivando Sta arrivando Ragazzi Altra inquadratura Sulla vetta Siamo sulla vetta Facciamo la thumbnail La copertina Tant'ora Siamo in mezzo alle nuvole Bomba In inquadratura ce l'abbiamo Ragazzi Ora scendiamo Fa un sacco freddo Però se non ci pensiamo Non fa freddo In teoria è così Dio qualcosa di russo ai nostri fan Bella ragazzi Vamonos Torniamo in Drea In che bei posti vi porto Vai è easy Io mi scaldo le mani Ma coi E' caduta Noo dai Dai che ce la fai Dai Dai Ci sei Un po' di forza Dai Ce la fai Andiamo ad aiutarla Posso riguardarla Guarda Non ci toccavo Eh no Io voglio essere aiuta Nella vita Vabbè Bene Correndo Sto in corso Andiamo Boom La bestia Ragazzi Spero che questa esperienza Vi sia piaciuta Se ne volete altre Comunque Ve l'ho letto Commentate E condividete Soprattutto questo video E fate sapere Agli amici Che comunque Stiamo iniziando A fare molte serie E nuovi video In arrivo Uno sempre Dopo l'altro Quindi ragazzi Con questo mega panorama Vi abbandono E ci vediamo Nel prossimo video Woo